ragazzi buonasera sto con checco che sta aggiustando i telefoni e niente facciamo noi siamo abituati a fare sempre video divertenti per farvi strappare un sorriso però questa volta abbiamo deciso di fare un video serio perché per quello che è successo a giulio perché noi vorremmo sapere che passate che c'è l'indicato e su guaglione che è come francese con due sorelle poi finisce la storia tra me e tua sorella poi che faccio l'ammazzo sono pazza a fare una cosa del genere ho fatto una cosa troppo brutta c'è anzi fa così c'è troppo brutto si è che vorremmo c'è ragazzi diteci anche a voi qualcosa c'è cosa ne pensate del gesto che ha fatto su guaglione c'è veramente non abbiamo parole per quello che ha fatto o no che cosa si si un gesto troppo crudele troppo brutto cioè noi più ci pensiamo e più cioè noi riusciamo a capire che cosa c'è che cosa ci è passato per la testa su guaglione perché non ci si comporta così c'è veramente non abbiamo parole per il gesto che ha fatto ok ciao